Buongiorno, saluto a Tatiana, a stasi droga di merito d'anni di un paese di un sport dentro o un sport che è il potente di essere accesa, riconificare persone che hanno invitato alla massa un sport che riparte più vele dentro popi, che con un evento e il lavoro con la fine di direzione di una strada questo è un'altra parte. Alla prossima, poi rilascivamo il tuo numero 35, e ben interessa cominciamo a lavorare. Poi rilascivamo un po' due giorni per rilasciare un po' un piccolo e due un piccolo tocchi subito terni tutto delle due delle due piuttosto non si non o occhio davanti davanti poter randuvi. Lucretto c'è lezze spregi di picciolus e dubbi redus e voi monti il ricerco il magico, o monti da randu l'incorrispondenzazione utile dell'occhio davanti davanti poter randuvi e racconto quanti malo crei in tuo occhio davanti che rizzinvoco un picciolus dubbi redus. Pirul pe crocet voi intra in corespondenza celuia si picciolus si voi monti cel de al doilea picciolus dubbi redus. Mergim in continuare si in corespondenza fiecarei picciolus, din rand anterior, noi vom lucra o multire. Asper ca, in sfarsitul randului, vom avea un numar de 30 de picciolus dubbi reduse. Voi inchide randu cu pirulare legata in corespondenza celuia de al doilea occhio davanti. Primul picciolus voi pune fir desparsitor, cestea le avem toate la indemana si voi continua lucrandi. Doar inchide a doua junita de a fiecarui picciolus, doar parte din spate. Vom lucra in acest mod de ziur imprezor, dar la sfarsitul randului vom obtine un numar de 40 de picciolus scurte. Voi intra in primul picciolus scurte. De la incercutura in doi, de data acesta, vom lucra in mod normal. După intra in mod normal, vom inchide acest sarand cu fir agodacat. Voi face 3 ochi de lans pe reținocul. Un picciolus dublu. Firul pe crozet, voi intra in normatorul picciolus. Voi face un picciolus dublu. Firul pe crozet, voi sa de un picciolus. In base, voi intra in normatorul si voi face un picciolus dublu. 3 ochi de lans pe reținocul de separare. Urmate de un picciolus dublu corespondent acelui picciolus. Firul pe crozet, voi sa de un picciolus. In base, voi intra in normatorul. Voi face 2 picciose duble. Voi sa de un picciolus dublu. Voi intra in normatorul si voi face un picciolus dublu. 3 ochi de lans pe reținocul. Urmate de un picciolus dublu corespondent acelui picciolus. Voi sa de un picciolus de base. Voi intra in normatorul si voi face picciolus dublu. Cei dau doilea picciolus dublu in normatorul. Voi sa de un picciolus de base. Voi sa de un picciolus dublu. 3 ochi de lans pe reținocul. Picciolus dublu. Correspondent acelui picciolus. Praticamente, percurserandu-li. Nei vom formar aceste neguri. Per apoi, ne vorrați dar un lucrar nostre. Voi lucrar în acest mod, percurserandu-li. Apoi, ca va capalturându-li. Voi inciderando un lucrar un declarat. Correspondent acelui dar terela o criteranțe ens neonatului primul picciolus. Apoi, fi-lăl un declarat boni-lu. Apoi, fi-lăl un declarat. Voi în corrence. A poate, fi-lăl un declarat. Apoi, fi-lăl un declarat. Amasă a spore, fi-lăl un declaratului. Tririul declaratului culparului. propria capire questa linea è lui si adesso si è realmente attraverso il momento che si riuscita a disposizione a fare un trattore cinque se si se ogni attraverso il momento è sono dobbri, dopo quale vamo salire direttamente urmato al stato, formando inoltre di l'idea, antes di separare che vamo lucrare inoltre e inoltre, oppure, perché vossi dobbri. Con prima testa vamo lucrare prima, ma spostituirei in dubbri aprendoci a parte di cinci chassi sette 8 si vamo salire direct in urmato al aici astfel vom lucrava in sfarsitul randului avans a capatul randului, vom inchide piralele necate in corespondenta celuilalt 3 la 8 ma di prima pichius vom scurta si vom inchide randul si vamo la cinta doua pulare cu desclusivara dorita de dumneavoastra voi fare corrispondentona un'uia dintre pichius se voi inchide se lucrez pichius scurta un'uia si voi inchide si capatul e per pichius se che dupri che vamo pichius 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 un piede d'ruzzo, scurta ora continuiamo con il piede d'ruzzo, scurta devono prezor un'altro 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 una un'altro 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 un'ered colored roba ch Optata tre su il cio un'altro del un'altro un'altro Conoscete un modo in carico nella vostra testa, ma è così. È un artista che non parte inferior a su posto di che si fa felice di più 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 di più. Acesta poi lo scurremo anche in giro della cerco di marzo, inseriscire. Voi aminti che abbiamo lavorato acel rand di precedenza in backlog, dopo cui potete vedere molto bene, se distingue randul. In corrispondenza a questo riguardo, noi vamo entrare se vamo lucrati piccoli scorti. Crescendo una coma, vamo entrare in corrispondenza lunga, anche a questi piccoli. In corrispondenza a questo riguardo, in corrispondenza, in corrispondenza, in corrispondenza, in corrispondenza. In corrispondenza, in corrispondenza, quindi in corrispondenza, in corrispondenza. questo l'amico faccio intorno a scopo faccio l'amico per l'amico per l'amico per l'amico per l'amico per l'amico per l'amico e continuiamo con piccoli scorte per l'amico per l'amico per l'amico quindi avvare l'amico per l'amico presentato per l'amico il av vezes Sarai em Voi parte, un'alte a casa, due in parte, loco, si vanno lucrare un numero di quinti prender, deputati di scuola, da loro imprezori. Anche a loro la testa, un'estapanza di come avanti, la finale non lucrare i maschi, e ti prender, deputati di scuola. Poi, un'alte a casa, non sarà un'alte a casa, perché non dimentica il Standrano, se siわ take uno più giusto, questa volta, le Hagg Titif Danke, e ti prender, el via l'est Happy, the Caprio le luc Belliamo e ora su fi come avanti. Il progetto che ci sono dei piccoli scuri, in un po' di denomarendo il cuore all'unica, in corrispondenza per lui all'unica. Voi faccio un'antelante, ci sono un'antelante, ma un'antelante, un'antelante, un'antelante e un'antelante. E mi piacciono le scurri, il progetto che faccio un'antelante per lui assa, e lo farò come un'antelante e spiega il cuore all'antelante. E l'antelante che si trasferisce un'antelante per le loro trattate, utilizzare le loro interesse. quando si accadeva durandoli, mettiamo tutto il filo applicato cortiamo il filo e facciamo il filo poi cortiamo il filo e il filo accadevamo il filo è stato di scopo il filo è stato di scopo il filo è stato di scopo non rimane di scopo in questo filo è stato di scopo in questo momento quando ho ascolti il filo di filo come spievo, vedea la nuovo il filo è stato di scopo il filo è stato di scopo il filo è stato di scopo io spero che vi piace ci siamo realizzati impreuna domnilii, sper che se vor bucura di questo filo se vorrei lasciate un like, un commentario e come obicei ma da scopo di domina vostra piacere dintre domina vostra poi due sette piacare e scopo di risultare non ad la stupendere saluto Tatiana Grazie.